ciurma avanti il tesoro è qui vicino è una volta trovato preparatevi a fare baldoria ma quale ciurma e ciurma che ci sono solo io non ce la faccio più sono tre ore che camminiamo non mi sento più ai piedi lo senti questo? ai è dentro la caverna andiamo no scusa andiamo dove morrei mica entrare là dentro si perché? ma sarà pieno di tipistrelli ragni e altre bestie schifose ma che pirata sei avanti muoviti andiamo ma dov'è il bottino? io non vedo niente per me è meglio uscire fermo corpo di mille balene ma che cosa è questo strano aggeggio? su che ci fai l'imparato vieni a vedere tu sai di cosa si tratta? bellezza con chi crede di parlare un pirata come me sa sempre tutto senti qua questo è il samsung galaxy x cover 5 uno smartphone android robusto e resistente progettato per il lavoro pesante e adatto agli ambienti più estremi questo smartphone presenta un display tft lcd touchscreen da 5,3 pollici con una risoluzione hd plus samsung galaxy x cover 5 è in grado di resistere a cadute fino a un metro e mezzo di altezza ed è in più resistente anche alla polvere e all'acqua fino a un metro e mezzo di profondità per 30 minuti il tutto senza riportare alcun danno inoltre grazie al glove touch ovvero alla sensibilità del tocco migliorato può essere usato anche con i guanti ma la protezione che offre questo smartphone non è soltanto esterna anche al suo interno con il sistema samsung nox la piattaforma di sicurezza offre una protezione end to end che incorpora la sicurezza a ogni singolo livello del dispositivo dal chip fino alle app al cuore di questo smartphone troviamo invece il processore exynos 850 un octa core con una frequenza da 2 gigahertz 4 giga di ram e 64 giga di memoria interna il sistema operativo e android 11 questo smartphone è dotato di sensori tra cui l'accelerometro la prossimità il sensore geomagnetico quello per la luce e per il giroscopio in più il galaxy x cover 5 presenta una singola fotocamera posteriore da 16 megapixel che garantisce la massima nitidezza semplificando la cattura di immagini e video la funzionalità fuoco live mette in evidenza il soggetto delle foto e la fotocamera frontale da 5 megapixel risulta buona per le videochiamate infine l'inclusione di nox capture garantisce scansioni di buon livello direttamente sullo smartphone ma le funzionalità non finiscono qui dal momento che il nostro x cover 5 offre anche il flash led sul retro dello smartphone accanto alla fotocamera e può essere utilizzato come una torcia consentendo di vedere anche negli ambienti più bui inoltre supporta la tecnologia nfc il bluetooth 5.0 e il wifi 802.11 abgnac infine parliamo della batteria quest'ultima è da 3000 mAh rimovibile con supporto per la ricarica rapida da 15 watt ed è in grado di durare tutto il giorno la ricarica rapida può venire tramite usb o pogo pin potete trovare il samsung galaxy x cover 5 su bpm power.com cliccando sul link riportato qui in basso in descrizione se non l'avete ancora fatto vi invitiamo a iscrivervi al nostro canale youtube mettere mi piace alla pagina facebook e a seguirci su instagram mi raccomando attivate la campanellina per non perdervi nemmeno un nostro video per mille spingarde non male questo aggeggio e adesso usciamo che ho proprio voglia di avere un po di grog oh no che succede io lo sapevo la caverna sta crollando scappiamo presto io lo sapevo me lo sentivo per la band di barba nero che spavento amedeo dove sei medeo corpo di mille balene ma questo è il cappello di amedeo e questo è lo strano aggeggio beh effettivamente molto resistente mica male potrei farmi un bel po di quattrini